Allora io c'ho il posto in standard però mi metterò vicino al mio compagno in business quindi adesso andiamo alla carrozza 1 Il posto è vicino al Tibero? Un piacere ragazzi Ciao Attualmente il tempo di viaggio è superiore di 8 minuti rispetto a quello previsto Ok ci andiamo bene altro che servizio executive Ok questa dovrebbe essere la focaccina no il panino secondo me Dovresti provare il panino secondo me E' un tipo di panino con la mortadella Veramente è buonissimo Di pranzo a pure dentro la roba Appunto Chi non piace viaggiare Pesa So 600 come corre Ma è quasi mattina Ma è un problema rigido fare andate e ritorno giornate M'è un problema rigido fare andate Grazie